L'acqua Stiamo portando a parlare di uno dei nostri temi marca, questo è il panchietto dell'acqua, questo è il comitato dell'acqua, questo è il forum italiano dei movimenti per l'acqua e io vorrei che voi inquadraste loro per cortesia. E questa è la nostra politica comunque? Diciamo che si è già formata una maggioranza assoluta nella società con il referendum, ora si tratta semplicemente che la politica entra in sintonia con quello che il popolo ha già deciso, quindi diciamo non è che esista una maggioranza politica sull'acqua, esista una maggioranza assoluta nella società. Questa è una delle nostre battaglie fondamentali, l'acqua pubblica, noi la portiamo avanti dal 2005, adesso chiediamo che ci sia l'applicazione totale del referendum che abbiamo vinto dopo molti anni, questa è una battaglia fondamentale per tutti i paesi, l'acqua deve ripetere in mano pubblica, non gestita da società per azioni ma restituto di diritto pubblico partecipato dai cittadini. Siamo qui per ribadire questo e lo ribadiremo anche all'interno del Parlamento dopo tanti anni e con tanta fatica ci siamo arrivati e faremo di tutto da dentro il Parlamento. L'offerta dove fanno? E ma insomma politica in qualche modo si negra.